Nel momento in cui uno Stato è più preoccupato tutelare chi delinque piuttosto che chi invece è un cittadino onesto e che tutti i giorni deve lottare per sopravvivere, noi crediamo che ci sia qualcosa che non vada. Le carceri sono sovraffollate, il personale penitenziario è sotto organico, ma questi problemi sostengono gli uomini del carroccio, non si risolvono con l'indulto. La Lega non intende ragioni, assolutamente contraria al decreto svuotacarceri del governo, scende in piazza in segno di protesta, anzi manifesta il suo dissenso proprio davanti alle carceri veneziane. Se la volontà a Roma di liberare ancora per la terza volta in sei anni, mandare fuori i delinquenti, credo che sia esasperato il momento, da un momento di crisi, da un momento di situazione in cui i cittadini sono lasciati a se stessi, il governo, il Parlamento pensa ai delinquenti, anzi pensa a far uscire i delinquenti. Se le carceri non sono tante quante servirebbero, continuano i leghisti, si possono sempre riadattare le caserme dismesse, un patrimonio dello Stato che al momento è del tutto inutilizzato. C'è qualcosa che in questo Stato non va e per risolvere questi problemi noi dobbiamo affrontarli e non svuotare le carceri perché condizioni sono inumane. Non ci sono carceri sufficienti, ci sono tante caserme dismesse, mettiamole a posto e facciamo in modo che dentro possano starci questi delinquenti. Una quarantina i leghisti che hanno manifestato prima in piazzale Roma e subito dopo davanti al carcere di Santa Maria Maggiore. Tutto si è svolto senza tensioni, sotto gli occhi di carabinieri e polizia.